Calendario ricco di iniziative a Cesano Maderno per celebrare la giornata internazionale dei diritti della donna, l'insegno della cultura, dell'arte, dell'informazione e della solidarietà nei confronti di chi è vittima di violenze o pregiudizi. Una giornata alla quale teniamo in modo particolare, abbiamo organizzato comunque eventi che sottolineano l'importanza di intervenire sulla situazione delle donne, non solamente in date ben precise e in questa attenzione diciamo prolungata si inserisce il progetto della farmacia amica delle donne, vengono invitate le farmaciste ad un laboratorio che le accompagnerà al riconoscimento dei segnali di violenza o di disagio che le donne possono manifestare proprio in un ambiente più adeguato che può essere in quel momento la farmacia. Un altro evento che mi piace sottolineare è l'evento che comunque è inserito nella giornata dell'8 di marzo dove verrà lanciato un laboratorio donne e denaro dove comunque l'obiettivo è quello di colmare quel gap di inclusione finanziaria che comunque esiste ancora come stereotipo di genere in alcune donne. Per quanto riguarda la cultura principalmente l'evento dell'8 marzo che inizierà alle 18.30 con un momento di accoglienza a Palazzo Borromeo, l'evento si svolgerà in Sala dei Fasti Romani ed è pensato proprio come momento di unione e di connessione tra donne, quindi momento per poter chiacchierare, fare amicizia, stringere nuovi rapporti, creare connessioni. L'evento sarà appunto introdotto da una presentazione del CADOM che presenterà appunto questo corso donne e denaro che si terrà ad aprile ed è un corso pensato per l'emancipazione economica proprio delle donne. Proseguirà poi appunto con un momento musicale e di aperitivo e la serata poi proseguirà alle 21 con lo spettacolo teatrale La Maria Brasca, nostro teatro Excelsior. In questo palinsesto non poteva mancare lo sport, si tratta di una giornata di presentazione dalla società Oltre il Pugno dove appunto ci sarà la dimostrazione di come le donne possono difendersi dalla violenza. Io invito tutte le donne a partecipare a questa giornata perché sicuramente può tornare utile insomma.